La prima tappa del tour estivo del collettivo Lo Stato Sociale sarà a Prato il 20 maggio in Piazza del Mercato Nuovo in occasione dell'undicesima edizione di Prata Tutta Birra. Dal mercoledì 17 avremo sul palco di Prata Tutta Birra la Rino Gaetano Band, il tributo ufficiale di Rino Gaetano, visto che è formato dal nipote di Rino Gaetano e dalla sorella di Rino Gaetano. Il giovedì sera una serata per i più giovani con la SED, un gruppo emergente punk rock e il venerdì sera il ritorno dei Modena City Rainbows. Il sabato lo Stato Sociale. Dal 17 al 21 maggio anche 20 stand di street food. Le specialità tipiche del territorio, mi viene in mente i ravioli di Gavigno, il fagotto del Chianti, la parte dello street food è una parte molto importante come la parte dei mercatini e i giochi per bambini, perché questo evento è un evento a ingresso libero e pensato per la famiglia.